Ben ritrovati appassionati di cinema d'animazione, io sono Dario e questo è un nuovo video di Animate. In questo video vi illustrerò il libro The Art of Strange World, edito nel 2022 dalla casa editrice Chronicle Books. Prima di tutto vi ricordo che per sostenere il nostro canale potete iscrivervi al nostro canale YouTube o seguirci sui social che trovate nell'info box. Ma passiamo a parlare di questo film. Strange World, che in italiano acquista il sottotitolo Un mondo misterioso, è il sessantunesimo film d'animazione dei Walt Disney Animation Studios. Il film è diretto da Don Hall, nome ormai storico dello studio d'animazione Disney, e che negli ultimi anni ha lavorato a numerosi lungometraggi, come Winnie the Pooh Nuove avventure nel Bosco dei Cento Acri del 2011, Big Hero 6 del 2014, Oceania del 2016, e Raya e l'ultimo drago del 2021. Tutti film che ha codiretto. Con la regia di Big Hero 6, Don Hall aveva anche ottenuto, insieme a Chris Williams, il premio Oscar nella categoria di miglior film d'animazione nel 2015. Come dice la leggenda, il destino del popolo di Avalonia è quello di riconnettersi al mondo oltre le montagne invalicabili che circondano la loro casa. Ma Searcher Clayd, un sano agricoltore e figlio dell'esploratore di livello mondiale Jäger Clayd, preferisce di gran lunga avere i piedi saldamente piantati a terra che si prendono cura della sua fattoria. Nel frattempo, il figlio di Searcher, Ethan, è un esuberante giovane avventuriero ispirato a seguire le orme di suo nonno Jäger. Ma quando Avalonia è in pericolo, spetta a Searcher ed Ethan viaggiare in profondità in un territorio strano e sconosciuto per salvare la loro casa. Unisciti ai Clayd's, al loro adorabile cane legend a tre zampe e al resto dell'equipaggio Venture, in questa storia di uno straordinario viaggio in un mondo sconosciuto dove ti aspettano creature fantastiche. Il film ha debuttato al Cinema e il Capitan Theater di Los Angeles il 15 novembre ed è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi e italiane il 23 novembre 2022. Ma la sua distribuzione non è avvenuta in ben 20 paesi del mondo, tra cui Russia, Indonesia e Malesia, alcuni paesi africani e i paesi arabi. La causa risiede nel fatto che in questi paesi sarebbe stata eliminata la storia d'amore omosessuale presente nel film, ma la Walt Disney Company ha voluto evitare che venisse attuato questo tipo di censura. Il film è stato accolto da recensioni principalmente positive. Sul sito Rotten Tomatoes, il 73% delle recensioni professionali ha dato un giudizio positivo al film, con un voto medio di 6.4 su 10. Tuttavia è stato definito come il meno eccellente dei film dell'epoca del revival Disney. Con un budget di 180 milioni di dollari, a cui vanno aggiunte le spese di marketing, e con un incasso di poco superiore ai 53.5 milioni di dollari in tutto il mondo, Strange World è risultato uno dei peggiori flop commerciali di sempre e la più grande perdita economica nell'industria cinematografica del 2022, con proiezioni di una perdita di ben 197 milioni di dollari per la Disney. Nonostante questo, è diventato il film più visto sulla piattaforma Disney Plus al momento del suo rilascio in streaming. Nonostante questo, nonostante questo, nonostante questo, Strangeworld trae ispirazione. dalle riviste e dai fumetti della cultura pulp da film come viaggio al centro della terra il viaggio fantastico del 1966 jurassic park del 1993 e king kong del 1933 grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione e al prossimo video!